Ciao Gide, benvenuti in un nuovo video, oggi farò il mio primo vlog, se sto parlando piano è perché sono alle 7 del mattino e l'unica sveglia di tutta la vita sono io, sì sicuramente sono io Sto per fare un weekend in un posto che non immaginerete mai, non immaginerete mai, sarò via oggi e domani e vi volevo portare con me in questi due giorni Sì perché se lo stesse chiedendo ho tagliato i capelli perché non mi seguo su Instagram e non ho potuto vedere, a proposito ma seguitemi su Instagram, cioè seguitemi su Instagram, cosa aspettate? Andiamo, andiamo, che stupida, voi avete già visto dal titolo dove vado? Quindi già sapete dove sto andando, dove mi sto dirigendo, quindi non è più una sorpresa, che stupida Sì vado proprio a Zoo Marine a Roma, se non ci siete mai andati vi consiglio di andare perché è un posto veramente stupendo, se ci siete già stati lo sapete già Eccoci qui, siamo finalmente arrivati a destinazione, adesso vi faccio vedere In questo momento mi trovo in piscina, purtroppo non posso farvi vedere ogni cosa perché qui comunque c'è caos, c'è gente Non posso riprendere sempre, comunque più tardi farò incontro con i delfini, riprenderò tutto e vi farò vedere Purtroppo non hanno potuto riprendere me, però ho fatto io i video ai delfini e adesso c'è lo spettacolo dei delfini Purtroppo non hanno potuto riprendere me, però è scusate Quello che ho fatto prima era una fontana super divertente che avevo con un getto d'acqua fortissimo Adesso andrò a fare uno scivolo d'acqua Quello che avete visto prima era uno scivolo acquatico veramente divertentissimo Perché poi ad un certo punto c'era un getto d'acqua fortissimo che era super super divertente Adesso sto per uscire da Zomarin e andiamo in direzione Roma e ci sarò fino a domani Grazie come vi avevo detto adesso sono a Roma, guardate cosa c'è dietro di me Stupendo! Adesso vi metterò una carrellata di video e foto Buongiorno ragazzi, oggi sto sempre a Roma Adesso vi farò vedere sempre una carrellata di tutte le cose che ho visitato Senza che a posto vi dico questo Eccolo sto io, questa è Fontana di Tre Vi faccio vedere tutti i video e le foto che ho fatto Ragazzi vi chiedo scusa se alcuni video sono in verticale e altri in orizzontale Ma per via della prospettiva delle cose non sono riuscita a fare tutti tutti i video nella stessa visuale Comunque sono proprio stanchissima perché ho visto tantissime cose Ho visto la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza Navona I fondoschi abbiamo fatto poi Per Sant'Angelo È stato stupendo, bellissimo Adesso devo andare a pranzo e vi farò vedere poi cosa prendo Poi tornerò a casa Siamo dopo, ciao Eccomi tornata a casa, Jade's Family Grazie per essere stati con me in questi due giorni Sono stati stupendi, sono volati Mi sono stancata parecchio perché camminare a Roma è grandissima È stato abbastanza stancante Però comunque ne basta la pena perché io la amo È una delle mie città italiane preferite Se non la città mia italiana preferita È sempre un'emozione grandissima Poi Zomarin, stupendo I delfini che sono i miei animali preferiti È stato tutto, 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 tutto stupendo Se vi è piaciuto fatemelo sapere con dei like, con dei commenti Perché vi siete divertiti Vi mando un bacio grandissimo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao